La presenza di Auxilia Finance al congresso nazionale FIIP sigilla quella che è la partnership con la federazione che vede Auxilia Finance a fianco degli agenti immobiliari per risolvere tutte le problematiche legate al credito e alla casa. Questo comporta una vicinanza non solo dal punto di vista dei prodotti ma anche soprattutto dell'assistenza che noi diamo e possiamo dare alle agenzie immobiliari anche in fase di pre-istruttoria del mutuo stesso come per esempio con il servizio di home timer che consente di avere una pre-verifica per quanto riguarda l'ottenibilità del mutuo da parte del cliente dell'agenzia immobiliare.